Omni Television mette di nuova disposizione borse di studio per gli studenti che sognano una carriera nel giornalismo non in lingua inglese o francese. Quando ho scoperto che ho vinto un'Omni Scholarship, non ero assolutamente aspettato. Vincere un'Omni Scholarship ha aiutato a capire che ho scoperto il pietro di carriera per percorrere il giornalismo terzo. Omni ospita numerosi programmi di attualità realizzati in Canada e trasmette ogni giorno telegiornali nazionali in sei lingue diverse. Per saperne di più, visita il sito www.omnitv.ca. Grazie a tutti.